Una cosa che mi colpisce molto nel vedere le città vuote e anche a Venezia quando esco per la spesa è vedere quanto perdono di senso i manifesti, le pubblicità, saldi, sconti imperdibili fino al 31 marzo se non c'è l'essere umano da approfittarne. Rispecchia un nostro stile di vita che era diventato folle. La corsa, tutto quanto, l'impostazione proprio dell'essere umano come acquirente fondamentalmente, no? E adesso ha perso di senso. Ora abbiamo avuto varie occasioni nella vita per cambiare individualmente. Capita magari, non so, un trasferimento, un nuovo lavoro, ma magari anche qualche occasione brutta, difficile, un lutto, una separazione. E ogni volta abbiamo detto non sarà più come prima. Poi la vita, l'abitudine, il tran tran prende sopravvento e torna tutto ad essere come prima. Questa volta non possiamo lasciarci sfuggire un'occasione mondiale perché tutto non torni come prima, perché niente torne come prima, perché come prima non andava bene. Prendiamo questa occasione per cambiare, per cominciare a vivere una vita vera, piena di emozioni. Céline diceva l'emozione è tutto nella vita, quando siete morti è finita. E molti anni dopo, tale Vinicio Caposella l'ha messo anche in musica. Prendiamo questa occasione per cambiare tutto.